Sicurezza delle scuole come questione essenziale per l'Abruzzo, ripartire dalle priorità del territorio e rimodulare il masterplan e tutti gli investimenti regionali pianificati prima della sequenza di eventi che hanno messo in serie difficoltà la Regione. Rifondazione Comunista lancia l'appello rivolto al governo D'Alfonso. Crediamo che sia venuto il momento, appunto, finalmente, era ora, diciamo che la Regione faccia il monitoraggio rispetto a quelle che sono le scuole e quali sono le priorità. Noi crediamo che bisogna intervenire sulle priorità, sulla messa in sicurezza, fare un elenco delle priorità e su quelle mettere risorse certe e intervenire in tempi certi. Non possiamo fare che sulle scuole ci sia una lotteria dei bandi, non possiamo fare che per colpa dei vincoli assurdi legati alle istituzioni europee o ai vincoli messi nella nostra Costituzione non si possano spendere delle risorse che già ci sono. Esistono decine di scuole che ad oggi non presentano crolli o danni strutturali, fuori dal cratere sismico ma con alti indici di vulnerabilità che creano allarme nelle famiglie. L'invito, prosegue Rifondazione Comunista, è quello di lasciare da parte opere pubbliche in bilancio e destinare i fondi alla loro messa in sicurezza. Ci sono all'interno del Masterplan un elenco di opere che noi riteniamo inutili. Il Masterplan va rivisto alla luce delle priorità. Scuole, le strade sono una priorità perché rendono la vita nei territori. Come si può chiedere alle famiglie, ai lavoratori di rimanere in un territorio se l'ospedale non c'è più, le poste chiudono, i presidi scolastici diventano inagibili? Diventa un assurdo. Se noi vogliamo mantenere e evitare lo spopolamento dell'Abruzzo interno e dare un futuro a questa regione, dobbiamo ricominciare da questi piccoli interventi. Non abbiamo bisogno delle grandi opere.